Gara pirotecnica al curlo tra Fasano e Fidelisandria a spuntarla. Sono i padroni di casa nonostante l'iniziale doppio vantaggio ospite, seconda volta in stagione ed un primo tempo ricco davvero di emozioni. Favarino è costretto a rinunciare a Zingaro e della Corte per entrambi, decisiva la rifinitura e di riacutizzarsi di fastidi fisici già accusati domenica scorsa. Nannola e Variale in campo sulle fasce dal primo minuto e squadra con ben tre classe, 2001 in campo. Attacco affidato a Palazzo e Cristaldi, per il Fasano invece la terza sceglie il classico 4-2-3-1 con Diaz unica punta. Prima frazione divertente, neanche due giri di lancette e subito pericolosa la Fidelis con Variale che salta due uomini e serve alla perfezione Montemurro che calcia a botta sicura ma la sfera finisce di un soffio al lato. Ma il gol del vantaggio è nell'area e la squadra ospite colpisce lancio profondo di Porcaro per Palazzo con il capitano Biancazzurro perfetto nel saltare due uomini e depositare la sfera alle spalle di Suma. E' 1-0 per la Fidelis che non ferma la sua azione e continua a spingere sull'acceleratore soprattutto con Variale che dopo dieci minuti si conquista un calcio di punizione fatale per i padroni di casa. E' Dalla Bona che si incarica della battuta ed il suo tiro è un capolavoro balistico che non lascia scampo a Suma. Era doppio Biancazzurro. Prima Dalla Bona e poi Cipolletta sfiorano il tris per la Fidelis ma alla prima incursione subito penalty per i padroni di casa. Sa lo stesso Cipolletta, Terra, Corvino e per il direttore di gara è massima punizione. E' lo stesso numero 10 a trasformare il calcio di rigore accorciando le distanze. La replica della Fidelis è sempre su calcio di punizione con il solito Dalla Bona che impegna severamente alla mezz'ora l'estremo difensore Suma. Ma il Fasano alza il suo baricentro e sfiora il pari con un bel colpo di testa di Ganci che si ferma sul palo interno prima di terminare tra le braccia di Segantini. Ma è palazzo ad avere l'occasionissima giusta per il tris e da tu per tu con Suma si fa ipnotizzare mancando in chiusura di primo tempo il gol del possibile. Nuovo doppio vantaggio. Preme sull'acceleratore sin dall'inizio della ripresa il Fasano che si affida soprattutto alla Verve di Corvino per scardinare la difesa ospite. Ci prova il numero 10 di casa su calcio di punizione Masegantini. Blocca la sfera, ne viene fuori un secondo tempo molto poco emozionante rispetto al primo. E con la Fidelis a controllare ed il Fasano a provarci sempre con gli uomini di maggior tecnica. E dallo scoccare però del 39esimo minuto arriva il nuovo episodio. Variale atterra ingenuamente Corvino in aria e per il direttore di gara e secondo penalty di giornata per i padroni di casa. E lo stesso numero 10 nuovamente a battere Segantini concludendo la rimonta. Ma la Fidelis sbanda incredibilmente e la beffa arriva quando è appena iniziato il primo minuto di recupero. E Diaz a superare Segantini per il Tris di casa dopo uno svarione dello stesso giovanissimo portiere classe 2001 della Fidelis. Il 3-2 vale di fatto il successo ed il terzo posto solitario per i padroni di casa. Ancora da registrare invece la fase difensiva andriese che incassa tre reti, due su calcio di rigore ed una sconfitta dopo aver tenuto a lungo le redini del Mezzo. Ed aver anche siglato due gol in trasferta domenica e il ritorno al Degli Ulivi dove sarà di scena il Nardò. Grazie. Grazie.